effettuare una ricerca sul sistema è molto molto semplice sia per il cliente sia per il nostro cameriere che dovrà prendere le prenotazioni sia telefoniche sia al bancone sia in sala di solito vengono suddivise in categoria noi abbiamo lasciato perdere la categoria che confonde basta il discorso qual è che il cliente in questo caso può sfogliare esattamente il nostro menu e quindi decidere cosa vuole come se stessa nel nostro locale direttamente con il menu anche dargli la possibilità di far capire che cosa facciamo che cosa serviamo importante è ovvio che deve avere la possibilità di fare una ricerca immediata quindi abbiamo inserito senza inserire le categorie una semplicissima ricerca all'interno di questa ricerca basterà digitare quello che vogliamo ed ecco che qui verrà visualizzato tutto ciò che in questo caso inizia per mar margherita margherita integrale pizza al taglio eccetera eccetera quindi basterà selezionarla in automatico avremo il nostro piatto quello che desideriamo oppure integrale ecco qui avremo tutto ciò che noi diamo di integrare all'interno del nostro locale oppure un altro esempio che va qui abbiamo che va potrebbe succedere ad esempio il che va nel caso in cui fosse suddiviso in categorie dove lo andremo a mettere tra le pizze gli antipasti o cosa quindi in questo modo abbiamo pensato di fare una cosa molto molto semplice alla portata di chiunque dove avrà modo di poter sfogliare il menu nella sua interezza quindi di poter scegliere tra le voci desiderate in modo da poterlo sfogliare oppure di fare una ricerca rapida per qualsiasi cosa essi vogliono